Ciao ragazzi, allora eccoci con un nuovo video Buongiorno, allora oggi video preferiti del mese di dicembre Allora, in collaborazione sempre con la mia amica Serena del canale De Serenina Vi lascio comunque tutto qui sotto nell'info box Tutti i suoi riferimenti e il video gemello a questo Allora, iniziamo subito con il primo preferito del mese di dicembre Che cos'è? Lui, l'albero di Natale Ovviamente l'albero di Natale è quello che va ad arredare la nostra casa nel mese di dicembre Per me lo so che l'albero di Natale non è un simbolo natalizio Perché c'è dietro qualcosa di molto più profondo Però per me l'albero è Natale L'albero è quello che mi fa dire Ci siamo È arrivato il momento più magico dell'anno È quello che mi dà proprio l'emozione entrando in casa Poi, vabbè, è sicuramente molto più importante il presepe che noi abbiamo In forma molto moderna Ma ce l'abbiamo Però l'albero di Natale è quello che ci regala emozioni in casa Un'emozione estetica Questo albero qui io l'ho preso da Epi Casa l'anno scorso Sono contentissima perché è bellissimo È proprio come lo volevo Altissimo Tocca quasi il soffitto E È sempre stato il mio sogno Avere l'albero innevato Bello grande Bello folto E questo lo Lo è E poi, vabbè, tutti Tutto quello che ho utilizzato per addopparlo A partire dalle luci che vi ho raccontato Vi ho fatto vedere in un video Vi ho parlato anche su Instagram Ho proprio cercato di curare ogni piccolo dettaglio Perché volevo che fosse proprio magico all'interno di casa Quindi, sicuramente un preferito è l'albero di Natale Andiamo invece avanti con qualcosa di più materiale Allora, inizio già con un prodottino Che non posso non mostrare So già che qualcuno dirà Eh, ma, vi, 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 vi Prima mi facevo tanti problemi Adesso me ne faccio molto meno Perché, d'altronde, allora Il canale è condivisione A me piace condividere con voi Io penso che chi mi segue È perché mi stima È perché Piaccio E quindi non avrebbe senso Negarmi certe cose Solo perché alle persone dà fastidio E questa cosa è una cosa Che mi sono messa in testa E da quest'anno Io voglio Mettere in atto Cioè, pensare più a me Pensare A le cose che mi fanno stare bene Non dover rinunciare A cose Per me importanti Solo perché ha qualcuno Che comunque non mi stima da fastidio E quindi ho pensato Che da quest'anno Un mio buon proposito È proprio quello Di seguire il mio istinto Senza dovermi far condizionare Ogni volta Da giudizi esterni Negativi Che comunque in ogni caso Ci sono In ogni caso Arrivano Infatti anche le mie mie Che mi hanno detto Federica Comunque queste persone Avranno sempre da ridire Nel bene e nel male Sia che tu faccia bene Sia che tu faccia male Quindi fai quello Che ti fa star bene E quindi faccio Quello che mi fa star bene E quindi Cos'è? Vi voglio parlare Di un mio preferito Che è il mio Bagno schiuma Perché è un prodotto Che io sto utilizzando Ormai uso solo questo Ovviamente Perché è mio Quindi sarei E quindi ovvio Che utilizzo il mio Anche se non ho abbandonato Anche altri Bagno schiuma Perché se li ritengo validi Li continuo a acquistare Però ovviamente Questo è il mio Mi piace L'ho realizzato E quindi mi piace anche Lavarmi col mio bagno schiuma E per un po' di tempo Come avete visto Ne sto parlando meno Della mia linea Perché Ho sempre paura Che arrivino appunto Come vi dicevo prima Questi commenti Parli sempre dei tuoi prodotti Cosa che comunque Non è vera Però è normale Cioè io vado fiere Come chi ha un bambino E si vede Comunque inizialmente Le foto dei bambini È normale Per me questa è la mia linea È la mia creazione Quindi mi piace farla conoscere Mi piace parlarne E non è giusto Che le persone ti tappano Comunque le ali Facendoti sentire sbagliata Quindi è giusto Che io racconti La mia emozione Quando comunque Mi lavo col mio bagno schiuma È un Non ne parlo solo perché L'ho fatto io Perché voi sapete che Io ho sempre parlato Di prodotti in generale Vi ho sempre consigliato Anche bagno schiuma Perché ritengo valido E questo lo ritengo valido È un profumo Molto Intenso Ma delicato Che vi lascia Un buon profumo Sulla pelle Pur non essendo Invasivo È comunque un bagno schiuma Delicato Quindi adatto A qualsiasi tipo di pelle È una coccola È una coccola Per il corpo È una coccola Per la mente Come vi ho scritto qua Infatti Vabbè Doccia schiuma delicato Deterge a fondo Senza essere aggressivo È ben tollerato Dalla pelle E rispetto al film Idrolipidico Una vera coccola Per la mente E per il corpo Quindi questo è quello che Quello su cui Ho voluto puntare E quindi Questo qui E ragazzi Molte di voi So che l'hanno provato Perché me l'avete scritto Qui su Youtube Me l'avete scritto Su Instagram Però È buono È valido E quindi Sono molto Molto orgogliosa Adesso andiamo avanti Allora Un altro top È Mascherina Allora Ci ho messo una vita Ma finalmente le ho trovate Non trovavo in giro Le Le mascherine Queste qui Le FFP2 Nere Le trovavo sempre bianche Orribili Sappiamo benissimo L'importanza della mascherina Quindi ovviamente Sono altri gli aspetti Che dobbiamo valutare Che dobbiamo guardare Però Se riusciamo anche A trovare La mascherina Che fa per noi Che ben venga Io finalmente Ho trovato Le FFP2 Nere Anche perché Questo è un periodo Dove ci si trucca In inverno Ci si trucca E quindi La mascherina Bianca Per quanto io Utilizzi Makeup Che non si trasferisce Però ad esempio La terra Mi si trasferisce Il fondotinta No Ma la terra Si Quindi La mascherina Nera Sulla mascherina Nera Secondo me Si nota Un pochino Meno Quindi FFP2 Nere Poi Andiamo avanti Cialdine Capsuline Allora Finalmente Come sapete Verso metà Dicembre Sono riuscita A trovare Le Starbucks All'Esselunga Non ci sono Sempre E molte di voi Su Instagram Mi hanno detto Che ci sono Anche in altri Supermercati Io vado Sempre negli stessi E sinceramente Le ho sempre trovate Solo da Esselunga Allora Queste qui Sono quelle Che io Mi Mi compro Sempre sotto Questo periodo Soprattutto queste qui Che sono edizione limitata Proprio per Il Natale E sono le capsule Di Starbucks Queste qui Sono latte E caramello Burroso Cioè Proprio Buona 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 Poi vi ho fatto vedere Su Instagram Vi ho fatto vedere Anche in qualche video Al mattino Quando ve lo preparavo Che lascia proprio Questi tre strati Come vedete Nella confezione Cioè De li fa Proprio Identici Io infatti Questo qua Me lo avevo Nella tazza trasparente Perché mi piace Proprio l'idea Di vedere I tre colori Divisi Nella tazza Ed è bellissimo Come sapete C'è la cialda Quella marrone Quella bianca Una è latte E l'altro È invece Il prodotto In questo caso Il caramello Buonissimo E poi Va bene Le classiche Queste qua Il macchiato Caramello macchiato Che Questo penso Si trovi sempre Di questo qui Ho fatto Una scorta Pazzesca Dell'altro Mi è rimasta Di questo qua Mi è rimasta Solo questa confezione Che è praticamente Una confezione Intera Più Alpune Che Ho inserito Della confezione Vecchia E poi Ho ancora Forse due Di queste qua E quindi Ve le consiglio Perché sono Spaziali Ovviamente Vi deve piacere Il caramello Perché se no Non ve le consiglio Allora Un altro preferito Passiamo invece Da Lidl Lidl Ecco qua Panettone Questo qua È il panettone Con crema Al mascarpone E frutti Di bosco È buonissimo Allora Questo qua Me l'ha consigliato Una mia carissima amica Su Youtube Alessandra Me l'aveva L'aveva consigliato Così io sono andata Ad acquistarlo E in effetti Mi è piaciuto Parecchio Ha questa crema All'interno Crema al mascarpone Ce n'è abbastanza Devo dire Che è tutta concentrata In un punto Ma ce n'è abbastanza Anzi Io in certi momenti Anche l'ho tolta Perché secondo me Ce n'era troppa È molto dolce Perché ovviamente Ci sono i frutti di bosco Quindi va a rendere dolce Il vostro panettone Però ragazzi Io ve lo consiglio A parte che io adoro Questa linea dell'Axe Perché secondo me È fantastica E merita 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 Un altro che merita È questo qui La torta tartufata Anche questo qui Buonissimo L'unico difetto Che ho riscontrato In questa qui È che La glassal di sopra La copertura È completamente Al cioccolato Con queste Granilline Sopra E quando voi Andate a tagliarla Cosa succede? Che Bram Si stacca Praticamente Tutto il pezzo Tutta la glassa Di cioccolato Sopra Quindi tutta La La copertura Di cioccolato Si rompe Si disintegra Si disintegra Si fa anche fatica Un po' a rompere Quindi questa è l'unica Cosa che ho riscontrato Forse perché La base Forse perché La copertura È molto croccante Quindi si fa un po' fatica Però è buonissimo Anche qui c'è Parecchio cioccolato All'interno E È cioccolato Comunque fondente Quindi se amate Il cioccolato al latte Questo Non è molto Adatto Perché è più che altro Cioccolato fondente Però è Buonissimo Quindi anche questo qua Io ve Lo consiglio Intanto aspettate Che guardi Un secondo Ok Poi andiamo avanti Con questo qui Mon Amour Allora Chi mi segue da anni Sa La mia grande passione Per il Mon Amour Lo utilizzo Dalmeno Tre anni Più o meno Ve l'ho sempre fatto vedere Ve l'ho sempre mostrato E me lo Alterno Con il Con l'altro Che è il Lenore Sono i miei due preferiti Lenore E Mon Amour Ci sono dei periodi Dove Mon Amour Forever Dei periodi dove poi provo il Lenore E Lenore Forever Quindi Mi piacciono talmente tanto Tutte e due Che li alterno Cerco di alternarli Così almeno Mi Cambio un po' E Adesso Un giorno Sono andata Da Max Factory Perché avevo bisogno Non mi ricordo Qualche cosa Per Natale E mi mancava anche il detersivo E l'ammorbidente Così ho preso Questa linea qui Che è la linea nuova Allora Questa è Extra Profumo Ed igiene Per il bucato Mon Amour Igiene attiva Quindi Ha anche Azione Igenizzante Diverso dal Mon Amour Classico A me piace di più Quello classico Che è questo qui Però anche questo qui Mi è piaciuto molto A parte che Vabbè io mi trovo Bene proprio A livello di lavaggio Mi piace tantissimo Quindi Lo trovo veramente valido Come profumo Forse è meglio l'altro È meglio il classico Intanto Scusate ma l'ho chiuso male Il rischio poi di Combinare un macello E Dicevo che L'altro mi piace di più Come profumo Però anche questo Ve lo consiglio Perché è buono E sono andata A Usarlo Insieme a Questo qui Che è il detersivo Igenizzante Anche questo Azione pulito Buono Anche questo Mi piace tanto Questo è adatto Sia per i capi bianchi Che per i capi colorati Quindi potete usarlo Per tutti e due Sia a mano Che in lavatrice E Il fatto che Igenizza Secondo me In questo periodo È molto importante Quindi io cerco Di utilizzare Tutti i prodotti Che siano Anche Igenizzanti Perché ripeto In questo periodo È fondamentale Lettere in lavatrice Anche qualcosa Che igienizzi I nostri Tessuti E E basta Questi sono I miei preferiti Del mese di dicembre Non sono tantissimi Perché Ovviamente Tra lavoro Tra le teste Tra tutto Siamo comunque Tutta questa situazione Siamo stati a casa Io cerco Di girare Supermercati Negozi Il meno possibile Anzi Proprio Il minimo Indispensabile Proprio quando Ho bisogno Di qualcosa Quindi ovviamente I miei preferiti Poi alla fine Sono tutte cose Che devo Comprare Obbligatoriamente E che mi permettono Magari di cambiare Di testare Di provare Però più di tanto Non c'è Perché ovviamente Siamo in casa Comunque il mese di dicembre Un mese speciale Un mese di Nascite È un mese speciale Perché comunque È Natale Ovviamente Quest'anno Non è stato Il Natale di sempre Quindi non posso Neanche dire Che è uno dei miei preferiti Questa Festività Quest'anno Perché mi ha tenuto Lontano Dalle persone Che amo Quindi penso Che sia Come per tutti Perché ci siamo trovati Tutti nella stessa situazione Sia stato Un Natale diverso Un Natale Meno bello Sempre importantissimo Perché dietro C'è una storia Quindi è sempre Importantissimo È una festa Che mi ha Comunque toccato Il cuore Nello stesso modo Di sempre Ovviamente Avrei preferito Passarlo Anche con la mia famiglia Quindi questa cosa qui Me lo fa vedere Un po' Così Amo che è stato Un mese Un po' così Un po' di Di tristezza Però Tutto passerà Io sono certa Che tutto Passerà La vita Ci sono momenti belli Ci sono momenti brutti Purtroppo Quello non lo decidiamo noi Però L'importante È saperli affrontare L'importante È provare Ad affrontare I momenti brutti I momenti brutti Cercare di combattere La negatività Con il sorriso Cercare di combattere Appunto Tutto ciò Che ci Dà questa energia Negativa Col sorriso Perché Un pochino Aiuta Un po' di positività Ovviamente Positività Intesa In questa maniera qui Un po' di positività Nella vita Aiuta Aiuta Essere più felice Aiuta Essere più sereni A essere Soprattutto Di aiuto Per gli altri Comunque Io con questo video Vi saluto Mando un grosso bacione Alla sera Sono curiosa di vedere Quali sono i suoi preferiti E ci vediamo Domani Con un nuovo Video Ciao